Musica Benvenuti a TeleCRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. L'Aula di Palazzo Cesaroni ha approvato la risoluzione che chiede maggiore autonomia regionale. Vediamo. Implementare l'autonomia regionale nei settori beni culturali e paesaggio, ambiente, governo del territorio, turismo, diritto allo studio, formazione e istruzione, università, sviluppo economico, sanità e welfare, lo chiede la proposta di risoluzione approvata dall'Aula di Palazzo Cesaroni che dà mandato alla Giunta regionale di avviare la discussione per negoziare con lo Stato l'attribuzione alla Regione Umbria di ulteriori forme e condizioni di autonomia legislativa, amministrativa, finanziaria e fiscale, illustrando l'atto di indirizzo in Aula, il Presidente della Prima Commissione, Andrea Smacchi, ha spiegato che si vorrebbe costruire un percorso condiviso con Toscana e Marche che potrà essere successivamente allargato anche a Lazio e dunque istituire un tavolo di lavoro unitario per il confronto con il governo nazionale. L'autonomia, evidenziato Smacchi, dovrà riguardare le eccellenze del territorio in modo che la concessione di nuove funzioni porti a risultati tangibili, misurabili nel breve periodo in termini di sviluppo culturale ed economico della comunità regionale. Gli obiettivi programmatici individuati sono stati la grande bellezza, i beni culturali, la leva del sapere, la salute, la protezione civile, la prevenzione sismica e ancora il commercio collestero, la ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi, la previdenza complementare e integrativa. La terza commissione ha approvato una proposta di risoluzione che prevede la facilitazione dell'utilizzo di farmaci cannabinoidi a scopo terapeutico nella formulazione in gocce. Ce ne parla Paolo Giovagnoni. I farmaci cannabinoidi possono essere assunti, quindi prescritti, dai medici sotto varie forme, tra queste la formulazione in gocce, che oltre ad essere estremamente pratica per la sua maneggevolezza, garantisce una maggiore precisione di assunzione da parte dei soggetti che ne debbono fare uso per la propria malattia. Questo tipo di somministrazione, ha spiegato Silvano Rometti, il proponente, grazie anche alla possibilità di autosomministrazione, andrebbe a favorire soprattutto quella fascia di popolazione più anziana che, secondo gli studi, maggiormente usufruisce di questi rimedi terapeutici. Rimane il problema dell'insufficienza della produzione di questo farmaco e l'intento è proprio quello di chiedere maggiore disponibilità. La legge regionale 7, ha ricordato Rometti, prevede che la Giunta possa stipulare convenzioni con i centri e gli istituti autorizzati ai sensi della normativa statale alla produzione o alla preparazione dei farmaci cannabinoidi ed è autorizzata ad avviare azioni sperimentali o specifici progetti pilota con altri soggetti autorizzati, secondo la normativa vigente, a produrre farmaci cannabinoidi. Illustrati in prima commissione i rendiconti 2017 della Regione Umbria e dell'Assemblea Legislativa. Ce ne parla Marco Paganini. Sono stati illustrati in commissione bilancio due documenti relativi all'esercizio finanziario 2017, il rendiconto dell'Assemblea Legislativa e quello della Regione Umbria. La Presidente della Giunta, Catiuscia Marini, ha evidenziato che i dati riconducono una gestione improntata alla prudenza e alla correttezza con tutti i principali indicatori mantenuti su livelli estremamente positivi. Nel 2017 è proseguita l'opera di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica con una serie di provvedimenti statali che hanno operato ulteriori tagli alle risorse regionali. La Regione, ha rimarcato Marini, è riuscita a garantire il rispetto dei vincoli sempre più stringenti grazie all'opera di razionalizzazione e contenimento delle spese ormai intrapresa da alcuni anni e senza incidere sui servizi. Nel colso della stessa riunione, la Presidente Donatella Polsi ha illustrato il rendiconto dell'Assemblea che ammonta a 22 milioni 200 mila euro. La Presidente, dopo aver sottolineato come Palazzo Cesaroni abbia incentivato lo sviluppo dell'innovazione tecnologica nell'ottica della semplificazione amministrativa, proseguendo dunque l'attuazione del progetto di digitalizzazione ed efficientamento dell'attività dell'ente, ha rimarcato che sono stati centrati tutti gli obiettivi strategici prefissati. Approvata in terza commissione la proposta di risoluzione sull'aggiornamento delle linee d'indirizzo per l'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione. Vediamo. La terza commissione consigliare presieduta da Tilio Solinas ha approvato a maggioranza la proposta di risoluzione che chiede alla Giunta regionale di aggiornare le linee d'indirizzo in materia di impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili. L'atto di indirizzo, predisposto dalla stessa commissione, scaturisce dall'iniziativa del vicepresidente Sergio De Vincenzi concretizzatasi prima in un'audizione e poi nella proposta di risoluzione sulla quale si è astenuta Maria Grazia Carbonari del Movimento 5 Stelle. Il documento chiede alla Giunta regionale di tenere conto delle esigenze emerse in relazione ai programmi di informazione e sensibilizzazione sui rischi connessi all'utilizzo di questi prodotti, ai sistemi di contenimento della deriva tramite barriere frangivento e valutazione delle condizioni climatiche nei giorni di impiego, dalla difesa dei corpi idrici alla contaminazione, all'attività di controllo e vigilanza del rispetto delle regole e delle precauzioni riportate nelle etichette. Le linee d'indirizzo forniscono indicazioni alle autorità competenti, i comuni, gli enti gestori di aree protette, in merito all'individuazione dei mezzi per il controllo degli organismi nocivi alle piante e delle erbe infestanti in ambiente urbano e nelle aree frequentate dalla popolazione o gruppi vulnerabili, in merito all'indirizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida, fungicida, insetticida o acaricida. E sempre in terza commissione, audizione sull'ampliamento dello SPRAR, il sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati. Paolo Giovagnoni. L'immobile di proprietà dell'ATER di Via del Favarone a Perugia, contiguo ai locali destinati alla protezione di richiedenti asilo e rifugiati, verrà destinato all'ampliamento di questo servizio che attualmente copre le esigenze di 27 persone, su un totale di 65. E quanto è emerso nell'audizione in terza commissione dell'assessore regionale alle politiche per la casa, Giuseppe Chianella, dell'assessore del comune di Perugia ai servizi sociali, famiglia edilizia pubblica, Edy Cicchi, dei responsabili della cooperativa sociale Perusia, Bernardetta Gasperi e Claudio Di Somma, e di presidente e direttore dell'ATER, Alessandro Almadori e Luca Federici, sulla situazione che si è venuta a creare per la riqualificazione dell'immobile di Via del Favarone, audizione che è stata chiesta dai consiglieri della Lega, Valerio Mancini e Emanuele Fiorini, e dal consigliere Sergio De Vincenzi, gruppo misto Umbria Next. I responsabili dell'ATER, titolare dell'immobile che è stato riconsegnato nel 2014 all'ente edilizio dall'Adisu, hanno scelto d'intesa con il comune di Perugia di effettuare i lavori di manutenzione con destinazione SPRAR, cioè il sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati, già presente nelle vicinanze e gestito dalla cooperativa sociale Perusia On Loose, anziché trasformare l'immobile in case per famiglie, una soluzione che avrebbe comportato una spesa di almeno un milione e mezzo di euro, mentre per la soluzione rivolta agli studenti è sufficiente una cifra di molto inferiore, circa 250 mila euro. L'assessore regionale Chianella ha precisato che ATER è un ente strumentale che con risorse proprie effettua il recupero di questa unità immobiliare, realizzando un utilizzo che risulta coerente con l'area. Dei consiglieri regionali che hanno richiesto l'audizione, Mancini della Lega ha chiesto di visionare il contratto con la cooperativa sociale. De Vincenzi, Umbria Next, ha rilevato che i locali nella disponibilità dell'ATER avrebbero potuto essere utili per i genitori separati che devono lasciare la propria abitazione e ai quali l'Assemblea legislativa ha recentemente deciso di destinare aiuti per 300 mila euro. Con 16 voti favorevoli e due astenuti, Movimento 5 Stelle, l'Aula di Palazzo Cesaroni ha nominato i tre revisori dei conti della Regione Umbria per il quinquennio 2018-2022. Dall'elenco dei candidati sono stati estratti a sorte presso la Prefettura di Perugia Saverio Piccarreta, Goffredo Maria Copparoni e Maria Di Vito. L'Assemblea legislativa ha anche adottato la graduatoria dei candidati donei dalla quale attingere per eventuali sostituzioni. La Giunta regionale richieda il riaffidamento della gestione della strada regionale 257 a Pecchiese ad Anas da Città di Castello al passo di Bocca Serriola e ad interessare la Giunta della Regione Marche per effettuare medesima richiesta per il tratto di propria competenza. È l'oggetto di una mozione annunciata dai consiglieri regionali della Lega, Valerio Mancini ed Emanuele Fiorini. I consiglieri regionali Gianfranco Chiacchieroni e Giacomo Leonelli del Partito Democratico, Silvano Rometti dei Socialisti, annunciano la presentazione di una interrogazione alla Giunta regionale per sapere quale sia lo stato di avanzamento dei lavori di manutenzione e ristrutturazione dell'intera rete ferroviaria della ex FCU e quali tratti verranno riattivati nel breve periodo considerando anche la riapertura dell'anno scolastico. E anche per questa edizione è tutto, vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria ed è disponibile anche in rete sul sito dell'Assemblea legislativa consiglio.regione.umbria.it e su YouTube. Grazie per averci seguito, l'appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci.